Oggi in giunta abbiamo deliberato l'autorizzazione a MCPS a proseguire sulla pratica del 110, del super bonus. E questo è un grande risultato perché era un obiettivo sfidante che c'eravamo posti. Sono stati individuati questi tre blocchi, questi tre palazzi di proprietà nostra, sui quali si interverrà con delle ristrutturazioni importanti, quindi con un salto classe anche di quattro in un caso, e quindi un efficientamento energetico e una nuova dignità anche agli alloggi popolari. L'occasione per comunicare questo importante risultato è stato durante l'ultimo sopralluogo dei vertici dell'assessorato al patrimonio e di MCPS di alcuni alloggi negli stabili ERP di Via La Marmora prima della consegna ai nuovi inquilini. Complessivamente nel corso dell'anno sono stati consegnati 79 alloggi, entro febbraio previsto un ulteriore tranche di 33 abitazioni messe a disposizione dal comune, altri 96 pronti per la riqualificazione con il super bonus, uno strumento che si sta rivelando prezioso e che consentirà di mettere a disposizione un numero di alloggi pubblici nettamente al di sopra della media degli anni scorsi. Non solo riqualificazione energetica ma con l'occasione anche ristrutturazione di alcuni alloggi sfitti per cui da questa operazione recupereremo un'altra decina di alloggi attualmente non occupati e quindi arriveremo a mettere a disposizione del comune più di 120 alloggi in un anno che è un valore assolutamente significativo se si confronta con i 40-45 alloggi annui che mediamente venivano consegnati.